caro sanza buonasera come va altro giovedì vulcanico dopo un paio di settimane di pausa è in realtà già ve l'anticipo questa sarà una serie di giovedì vulcanici questa è la prima di almeno tre se non addirittura quattro interviste a donne nell'ambito della scienza delle geoscienze quindi vulcanologia geofisica e quindi stavolta iniziamo con una ricercatrice che già chi fa parte della caro sanza da un po la conosce perché oltretutto è stata la prima intervistata di questo canale e quindi non potevamo che iniziare questo ciclo con lei e la presentiamo praticamente subito senza perdere tempo simona gabrielli buonasera simo come stai a posto bene bene una piccola colica renale la borsa e l'acqua calda mi supporta perché l'età avanza avanza e avanzano tu galoppi in ricerca ti abbiamo lasciata che eri al monsantelen da dottoranda stavi finendo infatti non mi ricordo non avevo ancora preso il dottorato e tu mi passi della prima live che stai finendo il dottorato e mi racconti l'esperienza a sant'elen alla seconda in cui sei post doc all'ingv sì a gran fortuna cioè come si dice è stata molto fortunata onestamente o sei molto brava come si dice tra le carose anza scippile basole si vola fortunata ogni tanto ci vuole anche non solo la bravura ma la fortuna perché diciamo che nel mio ambito della carriera universitaria e post universitaria sono sempre stata un po sfortunata a livello di tempistiche quindi evidentemente il karma ripaga anche il positivo non solo il negativo io questo ci spero perché lo spero forse me lo merito anche io un pochettino ma quindi allora ci abbiamo lasciata che eri al sant'elen e lo facciamo vedere al volo guarda che bello qua fantastico è una delle mie foto preferite credo che piacciono praticamente ovunque che oltretutto si vede tutta la parte sbancata sì che ricorda giusto oggi facevo un post appena fatto un post su instagram a far vedere come si è sbancato il sud est dell'etna dell'etna che ha prodotto pure un pulso piroclastico che ha percorso circa un chilometro e mezzo non poco soprattutto considerando l'etna è arrivato nella parte dei criteri barba gallo che sono una zona visitabile che tu visti ma comunque non ci perdiamo in etna che abbiamo lasciata che stavi finendo la tesi di dottorando di dottorato di dottorato e hai fatto la tesi sul monsantellen l'abbiamo detta c'è una live insieme dove racconti quello che stavi facendo quindi chi non l'ha vista può andare a vederla su youtube e ora invece che fai oggi ho dato mezzo spoiler sì diciamo che adesso ho momentaneamente abbandonato i vulcani anche se probabilmente ci ci vorrei ritornare a lavorare un pochino perché la sismologia in ambito vulcanico è più carina devo dire più divertente secondo me però adesso sono gli ngv faccio più o meno le stesse cose a livello geofisico sismologico che facevo durante il dottorato però in ambito tettonico di appennino centrale quindi praticamente sono un po' tornata a casa mia perché essendo abruzzese sto vedendo tutta questa parte dell'appennino centrale più focalizzato ovviamente su sull'ultima grande fase sismica che si è registrata ok amatrice visso e norcia quindi parliamo di 2016 quindi stiamo parlando di terremoti sì allora devo cambiare i led devo mettere blu se parliamo di terremoti parliamo di terremoti sì 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 sempre terremoti quindi vediamo un pochino cerchiamo di vedere se questi fluidi che provengono dal mantello quindi flussi di co2 fluidi profondi si chiamano che sono già stati visti in tantissimi studi sempre riguardanti l'appennino diciamo che anche noi vediamo qualcosina che è interessante non ancora siamo riusciti a pubblicare però si spera che prima o poi ce la faremo ci vuoi dare qualche anticipazione su quello che si vede sì devo solo vedere questo qui si vede wow tanti colori tante cose ora non spaventiamo la cosa vuol dire non spaventiamo la carusanza allora quindi sono cose che sono complesse magari ma possono essere spiegate facilmente allora prima di tutto qui parliamo di attenuazione sismica ovvero come il terremoto passando nel mezzo va a propagarsi ovviamente se noi prendiamo uno stagno e ci buttiamo il sassolino noi abbiamo le nostre ondine che mano a mano vanno a diminuire però se queste ondine incontrano un non lo so una piantina un altro tasso un qualche pesce ovviamente iniziano a magari produrre altre ondine questo lo si può vedere nel sismogramma ok quindi possiamo avere informazioni sui fluidi che ci sono nelle rocce che stiamo studiando oppure le fratture quindi le faglie per esempio e quindi quello che abbiamo visto sono due elementi il quello che viene chiamato il pic delay che studia soprattutto quante fratture diciamo quanto è fratturato il mezzo ok quindi quante spaccature ci sono in una zona esatto quindi quanto si è rotto praticamente e l'altro invece con l'attenuazione intrinseca si fa vedere più che altro l'influenza del fluido quindi se ci sono più o meno fluidi nelle nostre rocce e abbiamo visto due data set per ora che uno è del pre sequenza ovvero quel che è avvenuto tutti i terremoti registrati dal 2013 fino al giorno in cui c'è stata l'inizio della sequenza sismica il 24 agosto 2016 ad Amatrice ok quindi abbiamo visto poi successivamente cosa è avvenuto durante la sequenza sismica ovvero dal 2016 al 2017 e quello che abbiamo visto è che diciamo quello che viene rappresentato a livello di fratturazione è molto molto simile cioè è molto caratterizzato dalla geologia dell'area quindi si vedono per esempio questi elementi rossi qui degli andamenti che ricavano quali quelli rossi sono le macchie si vede dove c'è il mouse si vede un po' piccolino però se lo muovi così freneticamente sì lo vediamo quindi è la macchietta rossa nel pannello centrale in alto sì esatto qui praticamente che viene in contatto va a contatto con la parte blu qui praticamente c'è questa zona qui c'è un sovrascorrimento ovvero c'è una faglia molto importante e se andiamo invece durante la sequenza si vede anche un altro sovrascorrimento che è altrettanto importante che è questo qui vedete che c'è il questo blu che passa poi a rosso nel pannello di sotto la diagonale così sì no che così da nord est assurdo sì esatto e questo è un altro sovrascorrimento che è importante nell'appenino centrale che è il sovrascorrimento dei monti sibillini che mette in contatto cioè quindi c'è quest'asse nord est sud ovest che sale su qualcosa che sta praticamente così fa una curva a una curva va prende prima l'asse diciamo segue l'appennino e poi curva come per tagliare proprio la zona ok centrale praticamente giusto per passare un pappagallo c'è un pappagallo uccelli volanti allora quindi tu hai studiato tutto ciò che c'è stato prima del terremoto del 20 agosto 2016 24 agosto ok 2016 e poi quello che è successo da quel momento o subito dopo quel momento cioè prendi in considerazione anche quel momento sì sì anche il terremoto il mai sì sì anche il terremoto consideriamo comunque i terremoti importanti che ci sono stati diciamo di grandi magnitudo sandro inizia a voler allora facciamo un attimo di simona a due pappagallini che sono due come che si chiamano allo site ok in inglese cocatel che è molto più famoso forse cocatel di calopsite ok che hanno nomi geniali si chiamano sandro e raimonda sono morto oltretutto i miei bambini che adesso rimando subito a fare momenti altissimi delle nostre live queste cose solo su guardo vulcani e guardo pappagalli sulla testa di simona ok ora stanno buoni per ora oltretutto mi sono accorto che poco fa quando mostrava il sant'elen in realtà non c'era quindi per favore rimettilo certo che io così al volo lo faccio vedere ecco questo è il sant'elen di cui parlavo poco fa è la foto preferita di simona con la parte sbancata del sant'elen che in realtà è rivolta verso nord giusto sì è verso nord ok mentre invece l'etna adesso il sud est è sbancato verso sud nord sì sì è proprio verso verso nord e poi il il debris avalanche quello che viene chiamato debris avalanche quindi questa mega frana che è stata scadurita dal dal collasso del domo vulcanico invece è in direzione nord ovest ok è questo lo ripetiamo per informazioni maggiori sul montante l su tutto quello che ha fatto simona durante la sua tesi di dottorato c'è una bella live sul canale youtube e poi ne avevamo parlato anche abbastanza in dettaglio della mappa come si si abbiamo visto come tu hai fatto tutto con il georadar il rilevamento e quindi io giusto su questo mi ricollegherei quindi adesso tu stai studiando i terremoti dell'appennino come questi si correlano rispetto ai fluidi mi hai detto quindi flussi di co2 quindi quello per esempio che abbiamo visto per quanto riguarda la fratturazione è che col tempo sostanzialmente l'area quella vicino a norcia si è fratturata sempre di più ok quindi è come se durante gli eventi sismici effettivamente la fratturazione si è aumentata cosa che ci possiamo aspettare certo è facilmente intuibile una cosa che si rompe man mano che si rompe produce ancora più terremoti esatto per quanto riguarda invece i fluidi quel che abbiamo visto è che mentre nel pre sequenza quindi durante la fase prima del nostro terremoto avevamo queste macchie che sono alta attenuazione l'alta attenuazione è associata a la presenza di fluidi e abbiamo visto che tutto un po più sparso mentre quando andiamo a vedere la fase sismica si va tutto a incanalare nella zona proprio di faglia a partire da la zona dell'aquila matrice fino alle zone di col fiorito a col fiorito praticamente la la sequenza sismica del 1996 quindi quella dell'umbria marchi per intenzione che c'è ricordiamo me la ricordo dall'elementare il terremoto delle umbri e delle marche sì sì io ci sono tra virgolette purtroppo in negativo un po affezionata a queste sequenze sismiche perché praticamente le ho sentite tutte essendo abruzzese ah certo perché vivendo lì ovvio te le sei vissute pur essendo a pescara quindi non in luoghi del centro italia dell'epicento quindi sono un po legata quindi hai fatto quindi hai fatto uno di quelli e gli errori i basici che ci insegnano di non fare non è molto andare emotività alla nostra ricerca brava complimenti come per anni mi è stato detto non mettere motività sull'etna stai facendo ricerca non parlo e tu la nostra fede brava più che emotività mi diciamo più interesse ecco sì 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 diciamola così tanto alla fine siamo sbagliati è la colpa è la colpa sappiamo di chi è prima o poi lo porterò in live giuro mi raccomando assolutamente sì ma quindi ora ci hai spiegato che cosa è che stai facendo nel frattempo in chat le persone non le vediamo non lo sto facendo comparire neanche a schermo ma c'è peppino che dice con quei pappagallini mi sciolgo vabbè o sguardo vulcani c'è spazio per tutti e tutte aspetta aspetta un secondo che lo metto a schermo un po più evidente avvicinano facci salutare questa è raimonda ciao raimonda è andato il maschio si è associato al maschio la femmina si è associata alla femmina questa cosa non dovrebbe succedere perché proprio in questa live noi vogliamo anche parlare inclusività e anche della tua esperienza e quindi allora ci hai fatto vedere che cos'è che stai studiando adesso sei passata dai vulcani in particolare dal monsantelen all'abruzzo quindi dagli stati uniti all'italia da un vulcano a una cadena montuosa a terremoti ok ci racconti invece come sei arrivata dove sei arrivata c'è il tuo percorso accademico e poi mentre ci sei quante difficoltà e perché no dato che febbraio è il mese che celebra le donne nella scienza perché no magari ci dai anche la tua esperienza in quanto donna se ci sono state più difficoltà o magari se c'è avuto qualche cosa dici sai questo essendo donna mia facilità risate allora a livello di percorso accademico io mi sono girata un po' italia e mondo centro italia soprattutto perché ho iniziato a chieti perché ovviamente c'è l'università chieti pescara e dove c'è geologia quindi ho iniziato come geologa e anche se ho fatto poi una tesi triennale che non ci azzecca niente o quello di cui parliamo perché era di chimica ambientale praticamente tutt'altro e poi ho deciso di spostarmi a roma a roma 3 e perché volevo dare un percorso un po più sul sulla sismologia e sulla geofisica cosa che a chieti in quel momento non riuscivano non mi dava la sensazione di poter migliorare ecco questa è la cosa io volevo migliorare e a chieti non sentivo di poterlo fare quindi mi sono mossa a roma 3 dove ho fatto una tesi con gli ngv diciamo che gli ngv da subito è un po iniziato ad esserci tanto continuano a volare poi nel frattempo saluto a federica che è entrata a far parte della carisanza grande poi scusate non avevo letto scusa poi diciamo che la mia intenzione era di fare un dottorato e lì sono iniziato un po le prime difficoltà perché scusa e ci sta diciamo che tu dici difficoltà arriva il pappagallo in testa cioè cioè un po uccelli per diabetici ci sta ci rientra no perché praticamente io ho avuto diciamo le tempistiche sempre un po in negativo perché in quel periodo era iniziata una sorta di crisi per cui erano stati tagliati i fondi in qualsiasi modo anche agli ngv quindi non facevano proprio borse di di dottorato non aprivano proprio posizioni di dottorato quell'anno quindi io ho cercato un po in giro per l'italia ma non ci sono riuscita mi sono iscritta a un master in ambito completamente diverso perché era nell'oil and gas sperando quindi i malvagi i nemici i malvagi sì spera sempre però in ambito geofisico perché comunque anche lì c'è tanta ricerca ho comunque imparato molto anche lì però c'era una delle più grandi crisi che c'è stata la sempre dell'oil and gas quindi anziché prendere gente la licenziavano ottimo quindi proprio le tempistiche perfette poi alla fine sono arrivata ad aberdeen diciamo che lì era non dico l'ultima spiaggia però ho detto ho provato ovunque anche all'estero non ricevevo risposta o se le ricevo ricevevo in negativo e a berlin è stato uno degli ultimi posti che ho detto ok ci provo ci sono riuscita e quella è stata la mia prima vera botta di fortuna probabilmente che poi anche lì scusa un attimo ma permettimi tutta sta fortuna nel momento in cui hai fatto una triandata la magistrata un master diciamo che un po di qualifiche già c'erano non mi pare proprio fortuna fortuna il punto è che non riuscivo proprio a trovare lavoro io e zero e una delle motivazioni a volte è stato proprio che ero anche donna perché molte società preferivano in discorsi che magari posso anche capire perché sono discorsi magari logistici pericolosi di grandi costruzioni cose del genere molte volte non venivano proprio chiamate le donne quindi diciamo che in italia avevo trovato effettivamente un po questa difficoltà quindi una stilità perché dicevano tu sei donna non puoi andare vulcani vulcani o no diciamo erano proprio in altri ambiti quello che era proprio a livello non solo di industria di grandi società a livello di dottorato purtroppo magari era anche il mio progetto a non essere ottimale quindi mi mancava sempre un qualcosina da arrivavo sempre quasi al limite della classifica finale della gradatoria e magari quelle due posizioni prendevano dieci persone io arrivavo dodicesima o tredicesima quindi che tu dici non avendo nessun appoggio comunque essere riuscita ad arrivare comunque in in delle gradatorie così vicino male non è ma magari lì era la mia colpa legata al fatto che il progetto non era abbastanza vabbè non non saper non saper fare un application l'essere principiante ci può stare ci può stare e invece da berlin è andata comandata andata bene mi sono trasferita e lì in scozia sono stata benissimo onestamente e c'è una grande apertura per quanto riguarda le donne nella ricerca ci sono grandi sforzi e sia nell'università ma anche in generale stanno proprio cercando di migliorare questo queste cose e che altro e poi alla fine finito il dottorato sono riuscita a vincere questa questo postdoc qui è notato qualcosa di diverso tra cioè va bene che l'esperienza o come dice anche in chat pino la fortuna aiuta gli audaci o le audaci ma hai detto che inizialmente sentivi delle ostilità o comunque sentivi che in quanto donna qualcosa fosse più complicata pensi che si è cambiato qualcosa da quando iniziato il dottorato ad ora del postdoc per cui ora in quanto donna sei riuscita a entrare oppure tanta tanta fortuna e l'ambiente è ancora ostile allora adesso io come ambiente ostile non non lo sento per lo meno agli ngv devo dire forse è uno di quei posti che sono sempre stati aperti molto aperti per lo meno a qua a roma io ho sempre visto donne in giro anche quando facevo la tesi magistrale comunque le donne ci sono sempre state adesso magari anche in misura maggiore nell'ufficio dove vado che è una sorta di open office forse la maggior parte sono proprio donne che fanno postdoc o sono lì per un dottorato quindi diciamo che c'è una sorta di apertura magari anche prima di iniziare il dottorato perché non è una cosa che cambia da un giorno all'altro ci deve essere un qualcosa che inizia da prima e la differenza l'ho vista più che altro tra ovviamente l'italia e il regno unito non che il regno unito sia il luogo migliore del mondo perché ci sono tante cose negative pure là però a livello dell'università di come le donne vengono valorizzate quello lo sforzo l'ho visto sicuramente di più rispetto all'italia questa è stata la mia sensazione ci vuoi fare qualche esempio oppure una cosa più generica di no è una sensazione un po generica io comunque se a rifletterci a livello di colleghi la maggior parte erano effettivamente donne ad aperte in scozia erano tantissime donne a fare il dottorato a fare il postdoc e hanno iniziato anche mentre ero lì hanno iniziato a prendere delle nuove persone con come la figura del lecturer eh hanno preso molte donne quindi diciamo c'è anche un appoggio del governo e c'era un appoggio dell'Europa ok che quindi probabilmente in questo soffriranno tanto l'università ah certo perché ormai con la Brexit certo tanto e quindi loro hanno ma credo che sia a livello europeo ma non ne sono sicura questo award si chiama swan se non erro world eh atena world qualcosa del genere eh in cui praticamente premiano le università che eh portano eh ospitano eh molte donne eh ricercatrici magari per periodi di un mese due mesi qualche settimana ehm in quell'università quindi è una cosa che creare quindi un ambiente più ugualitario più inclusivo è bello è una cosa che creano molto non so se ci sia in Italia onestamente lì c'era e ribadisco era una cosa a cui tenevano tantissimo e lì c'era scusa se ti interrompo lì c'era quando di quanti anni fa stiamo parlando il cosa questo award sì fino a un anno fa eh per questo non sono sicura che sia legato all'Europa se devo essere no 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 ti voglio dire da quando perché tu hai iniziato il dottorato nel 2016 sì 2016 sicuramente nel 2016 c'era c'era quindi stiamo parlando che lì questa cosa già sei anni fa c'era dove sei anni fa sei anni fa scusa non volevo dare questa botta però sì noi già ci conosciamo no capisci che 2020 per me e per la maggior parte delle persone non è esistito quindi sì mi sono perso un anno mi sono fatto sette mesi di quarantena di lockdown anno sono proprio persi ci siamo persi tutti e tutte e quindi sì però si sono passati già cinque anni da quando abbiamo iniziato anche quel paper fantastico diciamo che era però verso la fine del 2016 dai era verso la fine del 2016 quindi ecco perché però sì a quel tempo già c'era sicuramente immagino che ci fosse già qualche anno prima almeno un due tre anni prima già c'era questo award questo riconoscimento che viene dato all'università c'è pamper che in chat dice certo che se anche una donna super qualificata a certe difficoltà chissà una donna normale tra virgolette si effettivamente fa riflettere fa riflettere perché consideriamo attuore preso un postdoc ma ma triennale magistrale dottorato quante pubblicazioni ma in realtà le pubblicazioni non tantissime perché non dire non la visita mi fai malissimo ma è visto visto te l'ho detto perché dovevo per attenzione a queste cose mi devi ferire male dal cuore non tantissime 45 ne ho due ma no come aspetta come prima autrice due il resto siamo siamo quasi sulla stessa barca solo che a me non mi hanno voluto come contore mannaggia adesso come cavatrice sto cercando su sto benetto paper ma a parte che informazione per la caro usanza in anteprima assoluta mi è arrivata la prima review sull'ultimo lavoro e pare una minor non volevo prendere spazio però era giusto perché mi è arrivata la mail poco fa da chi sai cose cose belle cose belle e il generale alzio è appena arrivato in chat e nel frattempo anche temple mike temple mike segni dalla caro sanza ci chiedono che cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando simona fai tu un brevissimo recap allora abbiamo parlato un po della mia vita accademica del fatto che ora studio l'appennino centrale prima sì sì ma no vai il dettaglio sei una geofisica vulcanologa sì che ha fatto il dottorato al monsantelen e adesso cioè studiavi in scozia il dottorato ma sei andata anche gli stati uniti per fare il rilevamento sul mondo e poi sei tornato in italia hai preso una posizione di postdoc all'ingv e stai studiando i terremoti dell'appennino come questi interagiscono con i fluidi e ci stavi raccontando le tue difficoltà in generale ed in quanto donna sì c'è qualche aneddoto che vuoi raccontare magari non capitato a te o che ti hanno raccontato no aneddoto personale durante un colloquio di dottorato qua in italia c'era che però per fortuna c'era stata la commissione stessa che si è girata verso il professore non so chi fosse o era meglio che l'ha guardato dicendo ma che stai dicendo mi hanno detto ma cosa stai dicendo ti prego durante il dottorato durante questo colloquio non ne ho la più pallida idea del motivo per cui mi abbia fatto questa domanda mi ha detto sì però tu sei fidanzata se sì come prenderesti questa una relazione a distanza come la vivresti io l'ho guardato ho detto ma ragazzi tu la mia vita voglio dire la mia carriera oltretutto aveva appena finito di fare un erasmus il mio compagno quindi gli ho detto ora proprio non certo questa idea dell'inseparabilità della coppia e che la donna ne sta sempre attaccata all'uomo ovunque vada e appunto gli altri per fortuna mi sono sentita appoggiata a parte la mia risposta comunque in modo tranquillo ed educato che gli ho dato e anche gli altri della commissione si sono girati verso di lui dicendo non devi fare queste domande cosa stai dicendo cosa c'entra esatto cioè totalmente irrilevante però sì questa è stata una volta quella volta io sono uscito e ho detto ma perché non è mi è piaciuta questa che hai detto questa domanda perché perché secondo me la domanda efficace perché io non ho mai ricevuto una domanda di questo tipo e non mi sono mai sognato neanche l'eventualità che possa accadere e invece sentendo te non solo queste domande e dico ma perché dovresti chiedere una cosa a una ragazza che sta la risposta che lui ha dato anche la risposta ai suoi colleghi sì sì l'ha data e ha detto perché ci è già capitato che una ragazza che non era di questa località era una località del nord Italia non mi va di dire troppo però una località del nord Italia io ovviamente non vengo dal nord Italia e quindi era chiaro che il mio compagno magari non era del nord Italia ha detto una ragazza che si era trasferita lei ha rinunciato dopo qualche mese proprio per una questione che non riesco a stare lontana dal mio compagno però sono scelte personali certo e fare questa ipergeneralizzazione che in quanto donna non vuol dire che per questo motivo io sono uguale a questa persona o via discorrendo e oltretutto anche se fosse sono affari della ragazza e insomma se lei non si deve continuare non vedo qual è il problema ma magari non è neanche creato un caso studio cioè non è che il sillogismo più banale da elementare la ragazza sta così tu sei in quanto ragazza quindi tu farai come lei più o meno era questo il collegamento che ha fatto e non è questo è il caso che mi è successo ma so per sentito dire comunque anche di altre persone a cui questa domanda viene fatta come viene fatta la classica domanda anche sì ma se rimani incinta ha intenzione di rimanere incinta cose di questo genere e queste cose tu invece ad Aberdeen non le hai vissute? no anzi devo dire ad Aberdeen mi è successa una cosa che mi ha colpito tantissimo ovvero una volta sono andata avevo capito che il mio curriculum il classico Europass che si trova in Italia è terrificante l'avevo capito quindi io sono andata a parlare con il centro dell'impiego dell'università chiamiamolo così che ti ripete proprio il curriculum tu prendi l'appuntamento ti dicono guarda il curriculum può essere fatto così può essere fatto colì c'è proprio un librone con tutti i modelli dei curricula a livello mondiale perché la Germania magari lo vuole in un modo la Francia in un altro l'Inghilterra in un altro ancora io quando portai il mio ho messo la classica foto e la classica data di nascita cosa che in Italia viene richiesta molte volte e loro mi hanno detto no questa cosa deve essere perché noi abbiamo combattuto pur di non mettere né sesso né genere né foto né data di nascita per non creare delle discriminazioni basate sul punto sesso, sull'età e su anche apparenza fisica e quindi praticamente il curriculum prevede nome e cognome, indirizzo, email, numero di telefono e poi quello che hai fatto punto quindi neanche la nazionalità perché mi ricordo che una cosa avevamo parlato e neanche la nazionalità mi sembra che io non l'abbia mai messa in quello stile ok onestamente però diciamo che magari la si capisce dalle tue se io metto che ho fatto l'università trennale a Chiedi immagino che uno capisca che sono italiana anche se non è detto non è assolutamente detto però insomma un pochino la nazionalità lo si può capire però una cosa appunto che mi ha colpito è che loro hanno detto no queste cose noi non le mettiamo più nei nostri curriculum perché sono discriminatorie e noi abbiamo combattuto per evitarle e questo sei anni fa sì e tu adesso che sei postdoc lì magari sentirai di nuove persone che arrivano fanno colloquio per entrare come dottorato o come postdoc ti è capitato ti è capitato di sentire cioè in questa tua fase passando da dottorato a postdoc quindi da dottoranda a ricercatrice ti è capitato di parlare con ragazze più giovani e notare no onestamente non ancora perché più che altro solo adesso sono riuscita ad entrare fisicamente in istituto per via delle restrizioni quindi e ci sono ancora tante restrizioni all'interno dell'istituto per cui non possiamo stare in troppi dentro la stanza e così via quindi non ho potuto parlare un po' di queste cose onestamente certo non avevo ancora avuto un riscontro effettivo con questa nuova generazione diciamo non ancora vabbè ma poi certo la pandemia non ha aiutato rispetto alla condizione ci troviamo che ancora si entra a rate sì sì esatto e invece c'è qualche esperienza? tua personale oltre che quella del dottorato di quel colloquio di dottorato che hai vissuto non tanto subito da qualcuno che ha avuto atteggiamenti maschilisti o sessisti ma che tu hai vissuto in quanto da dire questo mi viene difficile e la gente non se ne rende conto cioè c'è qualcosa che puoi insegnare mostrare agli uomini che è una cosa che non possiamo capire perché faccio un esempio banale su una live che ho sentito qualche settimana fa da un ospite che verrà anche qui Valeria Cigana che parlavano effettivamente delle difficoltà di andare in campagna quando si ha il ciclo è certo ma quello è ovvio che è una ma è ovvio però ti dico nel mio percorso femminista io l'unica cosa che ho imparato che è la più importante che consiglio a tutti è chiedere non dare per scontato perché io mi sono accorto che effettivamente questa cosa non mi era mai posto il problema e non per cattiveria ma perché non avendole ma sicuramente è una difficoltà io non posso pensare di poter andare in campagna campagna si intende fare il rilevamento o altro per esempio i primi due giorni di ciclo perché per me i primi due giorni di ciclo io non mi riesco a muovere io sono completamente morta perché poi non mi fanno effetto manco i medicinali quindi io sono completamente morta non riesco a fare nulla quando sono proprio costretta a fare qualcosa la faccio ma ormai sono anni in cui per me sono due giorni in cui io non mi muovo di casa perché so che non riuscirei neanche non ho le forze non ho le forze sto proprio male i dolori poi vabbè io ci soffro quindi è un'altra questione ancora no vabbè non sei la prima a raccontarle cioè lo sento una volta al mese quei due giorni di istruzione assolutamente ma anche a livello logistico sicuramente non è non è comodo andare a fare ripeto rilevamento fuori e se hai la fortuna magari che stai in un bosco allora è anche semplice riuscire ad avere del a riuscire a cambiare determinate situazioni che magari se però sei per esempio al St. Helene dove non c'era un albero manco a morire sarebbe stato terribile quindi sì ma anche lì comunque andare nel bosco per cambiarti sistemarti pulirti metterti in sesto non mi pare proprio la cosa più igienica adatta comoda almeno no non lo è ma infatti molte volte credo che entri in gioco quando hai la possibilità e non sei legato magari a campi universitari perché se tu fai l'università trennale e magistrale sicuramente andrai a fare un campo che però le date sono dittate da altre persone quando invece te lo puoi gestire tu magari vai a considerare cose del tipo ah quando è che più o meno avrò il ciclo magari prima di settimana evitiamo di andare a fare campo certo uno cerca magari di gestirlo in questo modo e sicuramente a livello ribadisco logistico questa è una cosa che io poi personalmente sono una che si affatica molto facilmente anche senza ciclo io mi affatico tanto quindi per me fare i campi io sapevo che ero sempre l'ultima della fila questa è una cosa anche questa l'ho imparata nel Regno Unito onestamente non tutti hanno lo stesso passo non tutti hanno la stessa velocità e non tutti riescono a fare le cose che fanno tutti quindi io mi sono sempre sentita un peso quando andavo a fare i campi perché sapevo che ero una delle ultime magari alla triennale non tanto perché avevo delle amiche vicino alcune delle quali condividevano con me questa difficoltà alla magistrale già ne ho sofferto un po' di più mi accorgevo che io ero un peso per il gruppo secondo me non va bene neanche questo cioè se c'è qualcuno che vedi che è un po' più lento non devi stare a giudicare la lentezza ci saranno magari delle motivazioni certo no no devi aiutare uno deve fare più lento questa è una cosa che ribadisco ho imparato sempre nel Regno Unito in cui invece c'è una grande perlomeno in Scozia ora ti riparlo ovviamente certo non parli dell'Inghilterra o tutto il resto magari non ne ho una minima idea di come possa essere in altre università via da Berlin sicuramente c'era un grande si cercava sempre di includere anche questioni simili e certamente anche più gravi come le disabilità in discorsi appunto di campo cosa che probabilmente in Italia adesso inizierà a cambiare io ne sono abbastanza sicura che soprattutto le generazioni successive alla nostra i giovani stanno veramente secondo me cercando di cambiare di fare di cambiare io ho Sandro che sta parlando anche lui è concorre anche lui è d'accordo io ne approfitto per ringraziare a Pumper che si è abbonato ho fatto la sempre per 14 mesi di fila un grande e scrive mi viene da pensare che fortuna essere maschio ed è terribile che sia così nel 2022 assolutamente sì perché oltretutto credo che la cosa peggiore per come la vivo io quindi non dico la peggiore in assoluto la peggiore dal mio punto di vista essere ignoranti rispetto a questo essere ignoranti del fatto che io per esempio ogni volta che preparavo delle materie all'università o pensavo di andare a fare una campagna di rilevamento o qualsiasi altra cosa non mi dovevo preoccupare che non della logistica non c'era il dover controllare in quali giorni doveva ricadere perché ci sono due giorni in meno al mese per me di efficacia di stato di salute ottimale e quindi questa cosa già crea una disparità in partenza quando dici facciamo una corsa partiamo tutti in stesse condizionale no aspetta io per fare questa corsa se dura 30 giorni io ne ho 28 perché due giorni sono KO di base e non l'ho scelto io ovviamente ci sono quelle fortunate che non hanno questo problema però sì assolutamente però anche anche quando non hanno immagino che anche quando non hanno quel problema sicuramente la condizione fisica non è proprio delle più ottimali sicuramente a livello di comodità o altro non è non è una cosa comoda no no infatti e non lo possiamo capire questa secondo me è la cosa peggiore proprio non essere in grado di capirlo e quindi la difficoltà nell'empatizzare sì secondo me anche uno dei motivi è che si è per lo meno in Italia a mia esperienza si è un po' taciuto su queste cose adesso ribadisco con i social che possono essere usati in modo negativo e lo sappiamo credo che quello che sta avvenendo nel mondo si vede però anche in modo positivo quindi ha dato la possibilità a molte persone soprattutto ancora una volta a quelle generazioni dopo la nostra ad avere più forza nel dire le cose sì e questo porta a una maggiore consapevolezza io lo vedo che c'è una maggiore consapevolezza che c'è una maggiore apertura mentale su determinati temi sì determinati argomenti rispetto a una decina d'anni fa certo sì 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 ma ti volevo chiedere questo anche hai notato una differenza l'hai sentita e la senti quella che io definisco sorellanza una cosa che io ho imparato a conoscere in Argentina perché in Argentina era molto forte questa sorellanza cioè questo sentimento di supporto reciproco fra donne anche all'interno dell'istituto stesso le ricercatrici tra loro si davano manforte anche quando spesso non erano d'accordo comunque tra loro non erano amiche ma su queste battaglie si facevano fronte comune tu questa cosa l'hai notata hai notato delle differenze nella tua esperienza durante il dottorato sì durante il dottorato tantissimo nel senso noi eravamo uniteci spronavamo assolutamente io ribadisco un'altra volta ero in Scozia vorrei ricordare che Aberdeen è stata la prima città credo al mondo che ha messo a disposizione gli assorbenti gratuiti per le donne con un income quindi con un reddito sì insomma che praticamente sono povere totalmente gratuiti in modo tale da perché anche magari quella spesa anche se gli assorbenti hanno pochissima una tassazione bassissima e quindi non vengono niente praticamente però per molte comunque è un problema anche quello se non hai i soldi manco per mangiare assolutamente e credo che Aberdeen non vorrei sbagliare ma credo che sia stata la prima città al mondo a metterli gratuiti in questo senso oltretutto l'università li metteva a disposizione gratuitamente l'università assolutamente anche di tutti i tipi perché una cosa che magari uno non sa è che ci sono diversi tipi di assorbenti e loro mettono comunque a disposizione completamente gratuiti per per urgenze dentro al bagno o anche in altri luoghi dell'università in cui se tu magari te lo dimenticavi ti accorgevi di avere necessità c'erano erano lì a disposizione questa informazione è fantastica ribadisco questa è una cosa che magari io ho visto lì che c'è una maggiore apertura mentale perché è proprio il paese che ha una maggiore apertura mentale in Italia in Italia io sono sorpresa mi sorprendo tantissimo in modo positivo quando vedo dei ristoranti che li mettono a disposizione nei bagni cosa che è rara ma ci sono molto rara ma ci sono quando li vedo sono sempre contenta della cosa perché dico anche qui evidentemente si sta muovendo c'è qualcosa non è più un tabù e questa sorrellanza di cui parlavi rispetto alla triennale o alla magistrale perché mi ha fatto mi ha colpito molto quando hai detto che in triennale c'era qualche collega che ti supportava a non farti sentire l'ultimo comunque che si trovava nella tua condizione quindi insieme eravate diciamo che io nella triennale ho fatto la triennale con anche una mia cara amica praticamente di infanzia quindi ci conoscevamo da quando avevamo sei anni ci conosciamo quindi per me ovviamente stando sempre state vicine per me era più semplice ovviamente stare con lei abbiamo fatto un bel gruppo maggior parte di femmine e di donne e siamo sempre state insomma insieme anche durante il campo cercavamo sempre di muoverci insieme in gruppo perché comunque anche lì quando fai rilevamento ti vuoi confrontare con delle persone riguardo gli argomenti che stai trattando lì sul campo quindi quello sicuramente la magistrale lì un po' per mio problema di interazione sociale perché dipende dall'ambiente essendo erano persone che si conoscevano già io ero una un'intrusa quindi per me è stata un po' più complicata riuscire ad avere dei rapporti lì a parte qualche persona lì sicuramente ho legato anche lì con una ragazza e e ovviamente con Corrado il mio compagno proprio diciamolo però ecco lì ho visto un po' una non carenza però mi sono sentita un po' più persa ma probabilmente era anche legato al fatto che ero un po' un pesce fuor d'acqua non c'entravo ok cioè non sentivi un'effettiva ostilità nei tuoi confronti no non lo so non mi sentivo né parte del gruppo né fuori non so come spiegarti era un po' un elemento così invece durante il dottorato lì era ricomincio da capo quindi bello lì nessuno non conoscevo nessuno quindi ho avuto proprio e nessuno si conosceva quindi oltretutto ero la più grande quindi mi sentivo tipo mamma chioccia un po' ero io quella che volevo proteggere perché veramente ero la più grande quella è stata anche un'altra cosa ecco la differenza d'età perché davvero io avevo ho iniziato che avevo 28-29 anni e lì c'erano chi iniziava alcuni avevano 23-24 anni che uno dice sono pochi anni ma in realtà possono fare anche la differenza posso assolutamente sappiamo in ricerca quando l'età fa la differenza esatto assolutamente quindi anche questo è una cosa su cui magari uno non ci pensa ma purtroppo vale soprattutto per le donne il discorso dell'età questo anche che molte volte c'è una difficoltà nel trovare il lavoro anche per queste motivazioni che magari per qualche motivo non sei stato a passo con i tempi certo io ne approfitto per dire alla carusanza che se vogliono fare domande in chat quando voglia rispondiamo e ci ho detto ti volevo chiedere sempre rispetto ad Aberdeen e poi al dopo questa anche la differenza di età adesso cioè l'hai notata tanto rispetto a fuori verso l'Italia cioè nel senso la differenza di età è una cosa che notavi sia fuori che qui oppure vedi che le donne più in quanto tali riescono ad accedere a certi luoghi più giovani cioè prima rispetto a noi allora adesso c'è una qualche correlazione adesso ti dico proprio la verità non sento questa problematica dell'età lo dico proprio con tranquillità nella fase del della ricerca di un posto dopo l'università quello sì l'ho sentita un po' il fatto di aver iniziato un dottorato tardi rispetto alla normale al normale range di età un po' secondo me appesato però poi ad Aberdeen non ho sentito questo discorso dell'età era più una cosa magari mia psicologica venendo da un altro paese certo per cui ho detto insomma non è mai troppo tardi dicevo una cosa del genere no e ti dico anche che in Argentina io ho vissuto l'esatto contrario cioè lì le persone iniziano i dottorati a 40 anni cioè passati avanti ai 30 o nei 40 quindi io mi sentivo un bebè sai credo che in Italia il fatto anche di in Italia ma anche all'estero l'età è legata anche al fatto che è abbastanza normale se ci riesci a fare il dottorato subito dopo l'università sì è abbastanza una condizione conseguente sì esatto quindi il fatto di non averlo fatto immediatamente è come se mi avesse posto in una condizione di ritardo sì sì e quindi ne ho sofferto un po' di più perché ovviamente vedo magari anche persone che avevano un dottorato lo stavano già facendo avevano la mia età stavano facendo il dottorato avevano più o meno le mie stesse qualifiche mentre io non riuscivo a trovare neanche il lavoro e lì un attimino dici ti sale l'ansia sì esatto ti sale l'ansia la capisco questa cosa però credo che questa cosa non sia solo legata alla donna credo che sia una cosa abbastanza legata a chi vuole stare nell'accademia sì anche non accademia anche non accademia anche semplicemente mercato del lavoro italiano in particolare ok beh invece c'è qualcosa che vuoi dire lasciarci quanto è bello Sandro ora ma come li distingui guarda com'è giallo vieni 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 non vuole venire ok lui è più giallo lei no perché lei è la femmina e lui è il maschio ok effettivamente si distingue perché se da vicino li vedo la differenza però lo sai non mi dai il dettaglio di Dicella la color scale se non mi definisci la color scale no c'hai ragione ma prima non si riconoscevano perché lui aveva gli stessi colori di lei ora che sta crescendo piani per il futuro che bello quindi non dovevo farti questa domanda il bello è che me l'hanno fatta proprio oggi un'altra ragazza mi ha fatto la stessa domanda bene allora fammi capire tu hai un assegno di ricerca di ricerca fino a fine 2022 ecco Sandro vuole fare il protagonista Sandro vuole fare il protagonista ma adesso verrà lanciato vabbè ok però fino a fine 2022 quindi per questo io sono abbastanza tranquilla per ora e poi si vedrà diciamo che tra un sei mesi inizierò a capire che voglio fare ci pensi tra sei mesi se ne occuperà la Simona fra sei mesi che ti odierà tantissimo per non averlo fatto adesso ma no dai sei mesi è il tempo giusto perché Simona sei mesi è il tempo giusto AC ante covid è questo sei mesi nel DC sei mesi nel 22 DC che non è dopo il 22 è dopo covid che non siamo effettivamente nel dopo covid sono tantissimi in sei mesi in sei mesi sai quante varianti ci sono sai quanti zone colori cambi è a voglia sicuramente arriva una domanda non proprio accademica addirittura la fanno in due diciamo che è una domanda che ti ho fatto io giusto ieri ma non fanno la cacca sui mobili sono ma guarda sono talmente piccole così proprio sono così forse più piccole e poi è tutto foderato guarda Sandro è stato in fresco parere di caro Sanza abbiamo una ricercatrice dell'ingv che ha studiato vulcani ore dei terremoti la sequenza qui la stiamo rivedendo a matrice e ti chiedono dei pappa che lì cioè influenza di ma io te l'ho detto che questi diventavano i miei protagonisti lo so lasciamo perdere intanto con la ricerca non si mangia o non lo so tu hai hai qualche consiglio invece sponsorizzo la pagina instagram dei miei pappagalli andate a seguirla Sandro si se me lo dicevi lo mettevo sopra sopra la tua immagine tipo qui sopra nell'angolino ti metterò di farli diventare macchina da soldi e si certo del resto se diventi l'influencer soltanto con con gli animaletti o i bambini se vuoi il posto i pappagallini vuoi fare un figlio una figlia fra sei mesi si pensa il pappagallino il pappagallino mi basta la rimondina mi basta va bene che ti volevo chiedere ti volevo chiedere un'altra cosa mi è sfuggita ah sì hai qualche consiglio su come affrontare il percorso accademico che tu hai fatto per ragazze che si stanno approcciando alla ricerca ora che si stanno per laureare ma guarda in verità credo che adesso per cioè qualche qualche cosa da evitare tu hai fatto qualche sbaglio che non ricommetteresti o una ragazza e dici guarda sei ragazza non ti dimenticare non ti dimenticare l'unica cosa guarda a livello non tanto femminile ma in generale di andare all'estero quello è l'unico consiglio che do ma credo che ormai chi si sta approcciando chi si sta approcciando in generale in generale alle scienze che possano geologia o chimica fisica ingegneria in qualsiasi modo comunque nell'ambito dello STEM andare all'estero ormai è una condizione sine qua non credo insomma lo devi fare per poter avere un curriculum tale che sia un Erasmus o un dottorato o una triennale o un master è fondamentale quello dà sicuramente un più di più anche a livello di di curriculum e anche per esperienza personale perché non rimani nel confine italiano vedi anche altro e vedi per esempio quello che hai raccontato tu che per esempio ad Aberdeen ti danno gli assorbenti gratuitamente e ti danno anche all'interno dell'università che non fanno distinzioni quello è un esempio assolutamente ho anche però apprezzato al tempo stesso la qualità dell'accademia in Italia quindi la qualità dell'università di come proprio del di quel che mi è stato insegnato soprattutto nella triennale e nella magistrale in in confronto con quel che viene insegnato alla bachelor che sarebbe una sorta di triennale sì e nel Regno Unito lì le cose sono molto più semplici rispetto alle nostre io avevo una conoscenza della geologia molto più grande rispetto ad altre persone che sono rimaste in quell'ambiente quindi non ci sono solo cose negative c'è anche tanto da apprezzare sì la formazione teorica italiana è forte questo accorta anche io assolutamente quindi però comunque l'esperienza all'essere lo deve essere fatta e come donna mi viene solo da dire di continuare come un treno a prescindere da tutto e tutti questo è un po' il mio mantra che devi continuare che non te ne devi fregare e se vedi qualcosa che non va di dirlo di riportarlo soprattutto adesso questo è buono tanti strumenti disponibili e ti ascoltano e magari ci sono ancora luoghi in cui non ti ascoltano ma generalmente ormai ci sono e questa è una cosa sicuramente da tener conto ok cioè dai in realtà dicevi che non è ma sta cosa che hai detto secondo me è oro colato direi cioè veramente il consiglio di essere comunque tenaci insistere non è poco non penso sia poco perché anche a livello caratteriale per carità esatto anche a livello caratteriale sì sì ma rispetto all'ambiente che vivi spesso ti senti sopraffatta e quindi dici no vabbè basta e invece abbiamo un esempio di Simona che praticamente complimenti cioè dall'Abruzzo alla Scozia al Monsantelen nello stato di Washington si tra Washington e Oregon ok tra Washington e Oregon è ritornata in Abruzzo stavolta però stai intermedia a Roma con un postdoc quindi va veramente brava Simona grazie un applauso dalla calusanza te lo meriti te lo meriti veramente grazie giuseppe da youtube fa una domanda generale su come sta il pianeta in che fase siamo raffreddamento normale amministrazione e questa domanda la lasciamo per un'altra live su bella complessa è molto molto complessa e soprattutto diciamo che coinvolge molto più l'aspetto della climatologia che non della vulcanologia che può avere sì effetti ma possiamo dire minoritari beh sarà interessante vedere anche l'influenza dell'ultima bella botta comunque che c'è stata è molto interessante abbiamo fatto una live con Guido Ventura su Lunga Tonga Ungapai la trovate sempre sul canale e ci ho detto Simu io ti ringrazio per essere stata con noi ma che fa scherzi quando vuoi ritorna perché ovviamente mi ha fatto piacere tornare se è stata la prima e se è stata la prima ad aprire questo ciclo e quindi veramente grazie per il racconto della tua esperienza e ci risentiamo quando volete ciao Simona ciao caro Sanza allora io vi ringrazio per essere stati estate con noi e ci rivediamo probabilmente domenica che è la domenica sempre su Twitch non su YouTube c'è il gap guardo analizza e parla e trattiamo diversi argomenti seguitemi su Instagram per scegliere l'insieme e soprattutto ci vediamo giovedì prossimo ci sarà con noi in live Silvia Massaro che ci parlerà di rischio vulcanico e in particolare di probabilità analisi probabilistiche sul rischio vulcanico quindi non lo so una figata iniziate a pensarvi le domande infinite che potrete farle e ovviamente ci racconterà anche la sua esperienza dal punto di vista accademico in quanto donna e non quindi ci rivediamo ai prossimi appuntamenti e vi auguro una buona serata ciao